... Presidente, ci sono studi per il treno L'Aquila-Roma, secondo lei è un sogno o è una cosa realizzabile in futuro? Stiamo creando le condizioni affinché nel prossimo governo un abruzzese guidi le infrastrutture. Ne riparliamo fra due anni. Grazie. Senta, il territorio ha prodotto con una fondazione bancaria uno studio di fattibilità al dettaglio su un ipotetico treno L'Aquila-Roma. E' un'ipotesi che potrebbe mai essere presa in considerazione e resterà solo appunto un sogno della città. Non conosco questo studio, evidentemente per fare un treno serve un'infrastruttura e quindi è una domanda che dovete fare al gestore dell'infrastruttura. Se l'infrastruttura c'è, se ci sono i volumi di domanda, l'impresa non può che cogliere l'opportunità. Senta, a proposito di infrastrutture, la Fondazione Carispank fece uno studio sul possibili ipotetico treno diretto L'Aquila-Roma. Lei lo vede? E' una cosa fattibile oppure un sogno? Io ho studiato tutte e tre le ipotesi e ci si deve lavorare. Ci si deve lavorare con un sguardo chiaramente al futuro.